Onorevole Guidesi, quali sono i difetti di questo decreto Imo? Diciamo innanzitutto che noi salutiamo benevolmente e con piacere il fatto che è stata abolita la tassa sulla prima casa, non solo per il fatto che riteniamo che la prima casa sia un diritto dei cittadini e non vada tassata, proprio per questo motivo non l'avevamo abolita, ma soprattutto perché il governo Monti, quando ha immesso l'Imo, ha basato la tassa, ha basato il calcolo dell'Imo sulla rendita catastale, dando per scontato che tutti i catasti del territorio nazionale avessero le registrazioni a posto, quando sappiamo che l'abusivismo al sud perverà, indi per cui noi diciamo che questa era una tassa pagata dal nord e salutiamo piacevolmente la sua abolizione. Questo non basta, non basta perché non ci sono le coperture, il governo ha previsto la copertura dell'abolizione dell'Imo con un nuovo gettito dell'Iva, facendo un calcolo non certificato e detto questo, soprattutto ha messo in grandissima difficoltà i comuni che non riescono a chiudere i bilanci, di questo governo si è completamente dimenticato degli enti locali e ci fa specie perché il ministro che dovrebbe occuparsi degli enti locali è colui che fino a ieri era il presidente dell'Anci Nazionale, nonché sindaco di Reggio Emilia. Questa è la dimostrazione che qualcuno, quando diventa ministro, si dimentica poi di essere stato invece amministratori, nonostante tutta la grande comunicazione che sul territorio il PD fa rispetto agli enti locali.